I consigli che diamo come operazione li abbiamo già elencati in un comunicato stampa che abbiamo fatto come ordini dei medici e sono poi le indicazioni che comunque vengono date sia dal Ministero della Salute che dalla Regione Veneto. Noi come ordini dei medici abbiamo stampato anche un catalogo, ma lo stesso Ministero ha fatto un decalogo su come comportarsi. Io lo mostro così è molto visibile, ma sono delle precauzioni che si usano un po' quando ci sono delle malattie, per tutte le malattie infettive, come lavarsi le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che magari hanno avuto, soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi con le mani gli occhi, la faccia, la bocca, coprirsi la bocca e il naso se hanno dei colpi di tosse. In questo caso è bene anche quando si tossisce, tossire o in un fazzoletto monouso oppure anche sul gomito per non tossire sulle mani che dopo magari ci si tocca il viso o altre cose e può essere contagiati. Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal proprio medico, pulire le superfici con disinfettanti, con cloro o con alcol, usare la mascherina solamente se si pensa di aver subito un contagio oppure se si assistono persone ammalate, altrimenti quest'uso delle mascherine non protegge, non è utile. Solamente il personale sanitario dovrà usare invece delle mascherine più protettive, sono le FFP2 o P3 perché sono effettivamente danno una protezione maggiore quando assistono degli ammalati che sono stati effetti proprio dal Covid-19 o da altre malattie infettive molto contagiose. I prodotti made in Cina che arrivano ad esempio in Italia non sono contagiati, quindi non abbiate paura di questi pacchi che magari arrivano anche da situazioni dove il virus si è sviluppato. Contattare se si ha paura o se si è pervenuti o si è venuti a contatto con persone che si pensa che hanno disturbi respiratori o che si pensa che possono essere stati contagiati, c'è un numero messo a disposizione dal Ministero della Sanità che è il 1500 oppure telefonare al 118 o un numero verde dato dalla Regione che è l'846 2340. In ogni caso è bene telefonare al proprio medico. Una raccomandazione, non intasare i pronto soccorsi, non rivolgersi al pronto soccorso per chi ha disturbi respiratori, febbre, tosse, telefonare invece al proprio medico curante che darà tutte le indicazioni del caso. Telefonicamente perché in questo modo potrà gestire in modo telefonico la situazione e vedere come evolve tenendosi in contatto permanentemente con la persona che ha questi disturbi. Eventualmente potrà venire anche a domicilio però ovviamente adottando certe precauzioni. Chi comunque ha questi disturbi respiratori e con febbre, tosse, mal di gola, ecco in questo caso però è bene che usi la mascherina per non espandere lui il virus e anche chi lo assiste dotarsi di una mascherina per precauzione e anche cercare di non avvicinarsi troppo ma di rimanere circa un metro, un metro e mezzo di distanza. Queste sono un po' le raccomandazioni che vengono date alla popolazione. Non lasciamoci prendere dal panico perché non è il caso. Usiamo le precauzioni che si usano in questi casi. Per fortuna ci sono dei focolai però sono abbastanza limitati. Noi sappiamo che con questo virus, il Covid-19, che è un virus nuovo, non è mai stato isolato prima, è stato un passaggio da una zoonosi, da un animale, in questo caso dal pipistrello, adesso non si sa se attraverso un ospite intermedio. Comunque questa è stata l'infezione. Ci sono nel mondo parecchi casi, soprattutto in Cina. In Italia non sono per fortuna così, però l'Italia in questo momento è quella che in Europa è il maggior numero di casi. Quindi l'importante è cercare di delimitare questi focolai, quindi è importante la prevenzione. prevenire perché purtroppo cure al momento non ce ne sono. Non esiste un vaccino, non esistono farmaci che siano in grado di debellare in questo momento il Covid-19. Speriamo che nel prossimo periodo ci possano essere a disposizione dei farmaci o un vaccino, però i tempi non sono così brevi. Quindi la prudenza va bene, nessun panico, nessun allarmismo. Adottare quei comportamenti che sono stati indicati. Penso che sia la cosa migliore. La prevenzione è comunque sempre l'arma migliore. La prevenzione è un vaccino, non è un vaccino, non è un vaccino, non è un vaccino.